buongiorno a tutti allora magliettina con la frase anche perché oramai sono gli ultimi giorni che la vedrete poi da lunedì partiremo con un'altra maglietta comunque moto gp gran premio d'olanda ad assen a fidanken vediamo alcuno chi sono stati partecipanti perché bisogna vedere le qualifiche come sono andate allora i partecipanti alcuno sono Alex Marini Gerloff che ahimè sostituisce il buon morbidelli che martedì scorso si è fatto la bua l'hanno operato menisco mica menisco eccetera si spera di poterlo rivedere all'otto di agosto quando si ripartirà dall'Austria visto che adesso la moto gp si ferma e riparte 8 15 di agosto e poi andranno avanti fino a fine ottobre se non sbaglio quindi il buon Mar Marquez ma ahimè Mar Marquez che deve fare la Q1 non è bello dopo la vittoria di una settimana fa quindi Petrucci, Joel Martin, Bagnaia, Lecuona, Savadori, Minder, Bastianini e Zarco vedremo chi di questi 12 piloti riuscirà due di loro riusciranno ad andare al Q2 dopo la prima tornata al comando il buon Pecco Bagnaia che ha dato ben quattro decimi a Joel Martin e quasi cinque decimi a Lecuona e adesso è un bivio o attende e risparmia le gomme sperando che il tempo gli basti per stare davanti oppure esce e cerca di migliorare il suo tempo però deve usare un altro set di gomme che non può tenere magari per il Q2 poi bisogna anche vedere se riesce a migliorare se stesso perché magari ci prova e poi dopo ci perimerlo c'è da segnalare ahimè soltanto sesto il buon Mar Marquez che forse questa pista la soffra un po' di più anche a causa più che altro del suo braccio che non è ancora completamente a posto e chissà mai quando lo sarà perché quando c'è di mezzo il gomito eccetera le operazioni l'altra operazione è andata male è andata bene è sempre una cosa preoccupante ci vuole tempo perché poi piano piano adesso ci sono queste cose che mi raccontava purtroppo un mio amico che ha avuto una brutta frattura praticamente sarà disintegrato tutta la gamba che praticamente gli mettono queste viti e piano piano l'osso si rifà però poi cresce un po' troppo quindi ci sono questi esserini che limano l'osso per tenerlo e ci vuole anni e anni e anni quindi staremo a vedere comunque il buon Mar Marquez è sicuramente in una pista che gli piace gli fa libidine perché dalla 125 alla 250 fino alla MotoGP è sempre andato per dieci volte di fila su un podio con tra queste dieci vittorie globali dieci gare in cui è andato a podio ci sono anche quattro vittorie una in 125 uno in 250 e due in MotoGP quindi signori miei quattro vittorie sei podi consecutivi il che vuol dire che in ogni gara dal 2010 fino ad oggi è andato sempre a podio su questa pista mi sa che è la spalla o il braccio che dir si voglia comunque a 37 secondi dalla fine proprio stavamo parlando del buon Marquez mentre stava facendo il suo secondo tentativo casca di nuovo Mar Marquez che era già caduto in FFP2 nelle prove libere 2 sempre forse nello stesso punto in curva 10 settore 10 eccetera e quindi ahimè nella gara di oggi dovrà fare gli straordinari per cercare di recuperare perché partirà molto molto indietro alla fine beffa delle beffe i due qualpiloti a qualificarsi sono Zarco che proprio all'ultimo giro fa un passaggio da paura e migliora di poco più di un decimo il tempo del buon Pecco beffando sia Lecuona che il povero Joel Martin perché Lecuona e Joel Martin si erano rimbalzati secondo e terzo posto con Lecuona che si era inserito davanti al Joel Martin e poi è arrivato Zarco e gli ha detto ma ciao ma ciao me lo prendo io il primo posto e quindi qualificati al Q2 sono i seguenti piloti Zarco è appunto bagnaia più 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 il buon Miller Olivera, Rins, Aleis e Spargaro, Quartararo, Vignales, Pone e Spargaro, Mir, Nakagami e Rossi più naturalmente Zarco che ve l'avevo già detto quindi i magnifici 12 sono loro con Zarco e bagnaia che arrivano dal Q1 e adesso vediamo chi farà la Pulposition e allora a sette minuti e mezzo dalla fine del Q2 e con i piloti che rientrano per il cambio gomme c'è al comando un super Quartararo con tanto di record della pista in 1.31.922 che però non si è capito se non era soddisfatto del tempo perché era lì che non si capiva se non era soddisfatto del tempo perché inizialmente il buon Medave ha detto ma sembra che scuota la testa perché minchia ha fatto il record della pista non sembra soddisfatto però non si riesce a capire se era un minchia che cazzo fatto scusate il francesismo oppure se era... si può fare meglio non sono soddisfatto alle sue spalle distanziati anche di un botto Vignales, Zarco, Miller, Nakagami e a lei se spargarò solo undicesimo rossi ma è sempre meglio che dopo i primi 15 piuttosto che niente ed è mai piuttosto dicono in Emilia-Romagna a due minuti e mezzo dalla fine un super tempo per un super Vignales inaspettatamente in pool provvisoria super scatenato che abbassa di un decimo il record di Quartararo e si prende la pool provvisoria e alla fine la pool position è di Vignales davanti a Quartararo ed è il risveglio delle signori due Yamaha ufficiali sì, perché Quartararo e il buon Vignale sanno le Yamaha no, perché il Morbidelli e Rossi sono sulla Petronas giusto, quindi Vignales e Quartararo sono su quello ufficiale mentre purtroppo il buon morbido forse lo vediamo in Stiria gran premio di D'Austria, penso si spera, l'8 di agosto 40 giorni solitamente il menisco in un mesetto ce la fa e poi bisognerà vedere come starà e di fianco a loro un ottimo pecco bagnaia che proprio con gli ultimissimi giri è riuscito a inserirsi come un coltellino al terzo posto inoltre c'è da segnalare all'ultimo giro, ahimè la caduta di Ries fortunatamente senza nessun conseguenza per il pilota che tra l'altro è la cosa più importante detto questo ragazzoni andiamo a vedere com'è questa griglia di partenza perché in pole position o meglio in prima fila abbiamo Vignales, Quartararo e Bagnaia e ci sarà da divertirsi e attenzione che magari tra i due Yamaha il ducatista gode alle loro spalle Nakagami, Zarco e Olivera attenzione alla partenza spada di Zarco magari non si sa mai quindi Ries, Miller e Alei se Spargaro in quarta fila abbiamo Mir, Pole, Spargaro e Rossi va bene va bene quarta fila va benissimo rispetto alla sesta fila settima fila quarta fila è già tanta roba sei in zona primi dieci entrare già un bel ottavo settimo ottavo posto di Rossi farebbe l'ibidine tanto per migliorare i tredicesimi quattordicesimi quindicesimi posti o le cadute un ottavo posto sarebbe già tanta roba alla fine del Gran Premio di Essen tutto quello che viene di più e di guadagnato in quinta fila abbiamo Lecona Joel Martini è un buon Savadori in quinta fila l'ibidine tanta roba anche lui quindi Alex Marquez Marini e Petrucci in settima fila Bastianini Mar Marquez Mar Marquez signori Mar Marquez terz'ultimo non si può non si può vedere non si può vedere quindi Midder e Gerlof che l'hanno buttato sulla 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 moto gli hanno detto devi sostituire Morbidelli Speravano di utilizzare Carcaccio ma la Petronas ha deciso Gerlof forse era meglio Carcaccio che la moto la conosce Essen pure Gerlof si ha fatto un po' ha fatto sostituito Rossi a Valencia se non sbaglio un giorno però si vede che lo vogliono provare lo vogliono testare vogliono vedere magari per il futuro visto che non so se l'anno prossimo Rossi correrà ancora magari vogliono provare un loro pilota interno alla scuderia per sostituire eventualmente il buon Rossi l'anno prossimo sempre che Rossi decida di smettere perché magari Rossi vuol fare il muffon e andare avanti fino a 50 anni a correre perché stare a casa fa girare i pollici non c'è voglia comunque ragazzoli vedremo oggi alle 14 cosa succederà poi alle 15 c'è il gran premio io mi auguro per la mattina spero per le 9 le 10 della mattina che questo video sia online così prima della della partenza mentre siete lì che girate i pollici non sapete cosa fare vi guardate il mio video che vi racconta come sono andate le qualifiche detto questo vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima ciao